Quale può essere il sogno di un uomo di mezza età, con un po' di pancetta, che in passato è stato addirittura l'host di un podcast che si chiamava Una Birretta Con? Quello di possedere un birrificio. Avete capito bene, sono riuscito a comprare una piccola quota del birrificio Baladen e oggi ti voglio parlare del perché ho comprato un birrificio e del perché ho aderito al crowdfunding di Birrificio Baladen. Allora, partiamo dalle motivazioni reali. Innanzitutto, bere una birra è sempre un piacere, soprattutto d'estate. E soprattutto se buona, come quella del birrificio Baladen. Conosco il birrificio Baladen da 20 anni, da quando probabilmente è più o meno da quando è stato fondato. Questo perché il fondatore Teo Musso era uno dei master birrai più famosi in Italia, quando nel 2000, nel lontano 2000, ho cominciato a occuparmi, a interessarmi ai birrifici. Avevo fatto un progetto, un business plan per avviare un micro birrificio nella mia città, che poi non l'ho portato avanti, ma comunque è stato un investimento di tempo, di energie e di risorse che ho portato avanti per un po' di anni quando ero veramente giovane. Sicuramente in quella esperienza mi sono confrontato con un mondo, quello della birra in Italia, che era ai tempi non radicatissimo. Il consumo medio di birra in Italia è abbastanza basso, è tra i più bassi d'Europa, per fortuna vorrei anche dire, visto che questo assolutamente non è un incitamento a bere. Tuttavia il consumo di birra sta crescendo tanto, cresce tanto soprattutto nelle fasce giovani, e cresce molto anche il consumo di birra artisanale. Ecco perché operatori come alcuni master birrai, diciamo autonomi, indipendenti, quindi non appartenenti ai grandi gruppi, stanno avendo grande esito. Stanno avendo grande esito anche birrifici molto importanti, quindi grandi gruppi internazionali che provano dei marchi locali che preservano un pochino la indipendenza, o comunque danno, trasmettono al consumatore una sensazione di naturalità e di indipendenza rispetto a questi grandi marchi globali. Comunque la birra alla fine è quella, per quanto voglio dire, sicuramente possono impattare sulla qualità del prodotto, la qualità degli ingredienti e il processo di lavorazione. Mi è sempre piaciuta la birra perché ha un costo abbordabile per tutti, a differenza del vino che invece spesso diventa per intenditore a volte dei prezzi che sono assolutamente non abbordabili, e a volte a cui qualità io onestamente non capisco, quindi faccio un pochino fatica a discernere. Quindi la birra mi è sempre piaciuta un pochino più del vino per questo suo carattere democratico. In aggiunta voglio dire, ho sempre seguito con interesse delle esperienze di crowdfunding estere, quindi sono state fatte all'estero dei crowdfunding molto importanti, tra cui quello più famoso è quello di Brewdog, un birrificio scozzese che ha raccolto negli anni veramente tanti soldi con crowdfunding, fatti veramente molto bene, in cui le persone che avevano partecipato fosse una parte di una sorta di comunità. Ecco, questa parte della comunità, questo senso di comunità, l'ho ritrovato anche nel birrificio Valaden. Birrificio Valaden, che ha una sede vicino Cuneo, insomma, e sta portando avanti dei progetti di ampliamento. Il birrificio Valaden oggi fattura a 16 milioni, ha un'emiglia del 20% e ha alcuni progetti di crescita. Il più interessante è questo Open Hub, cioè una nuova sede produttiva in cui produrre della birra in fusto fatta con la ricetta di alcuni birrifici locali. Questo per appunto andare a dare la possibilità ai birrifici locali che hanno una birra di qualità di aggredire il mercato globale, il mercato della birra nazionale e internazionale con un prodotto su larga scala. Il birrificio Valaden ha raccolto su Mama Crowd, quindi una piattaforma di crowdfunding detenuta da Azimut, Azimut quindi il gruppo bancario molto importante, ha raccolto ben 5 milioni con una valutazione di 55 milioni post money. Cosa mi ha colpito del progetto di Valaden? Uno per il fatto che fosse un progetto concreto, quindi raccolgo 5 milioni per fare qualcosa, quindi per ampliare la mia capacità produttiva, per andare a realizzare questo birrificio nuovo in cui andare a produrre anche birra di altri, con una fedeltà ai propri valori, quindi quella di diffondere la birra artigianale maggiormente tra i consumatori, poi quello di accrescere la qualità del proprio prodotto con la realizzazione di un pozzo presso la sede dello stabilimento di Cuneo e infine quello di acquisire nuove quadri di mercato grazie a investimenti in brand e marketing. In particolare l'operazione di crowdfunding se ne occupata la seconda generazione del birrificio, quindi non il fondatore storico Teo Musso ma il figlio Isaac. Isaac appena entrato in azienda ha subito deciso di ricorrere al crowdfunding per ampliare le potenzialità dell'azienda, l'azienda che oggi è arrivata appunto a fatturare 16-17 milioni ma che punta arrivare a 50 milioni nel 2028 in cui ipoteticamente, quindi un orizzonte anche abbastanza breve, potrebbe addirittura arrivare alla quotazione in borsa o comunque alla distribuzione di dividendi tra i soci. Va bene. In ogni caso quanto investito in questo crowdfunding? 250 euro. Ho comprato veramente una piccola quota, un piccolo chip, perché nella mia allocazione globale, dei miei investimenti, evidentemente il crowdfunding non vuole essere un asset class rilevante. voglio semplicemente destinare qualche soldo giusto per gioco a questa categoria. Ho investito in passato in crowdfunding, ho investito sulla piattaforma inglese Crowdcube, in parecchie operazioni peraltro, pochi soldi sempre. Crowdcube ha l'avvantaggio, appunto essendo una piattaforma inglese, di veramente permettere a tutti di investire, quindi di investire a partire da 10 euro, 10 sterne in eco. Quello mi è sempre piaciuto molto, ma io ho investito veramente su tanti operatori, qualcuno è fallito peraltro, altri invece sono ancora operativi, ma nessuno o tranne uno mi hanno restituito i soldi investiti, e nel caso dei soldi restituiti ovviamente me ne hanno restituiti meno di quelli che ho investiti, quindi avevo investito i 10 euro, ma ne avevo restituiti i 7 euro. Oggi ti voglio parlare un po' del crowdfunding. Il crowdfunding su cui sto investendo, voglio costruirmi un piccolo portafoglio di partecipazioni in aziende italiane, in start-up, in piccole e medie imprese che abbiano un loro valore e che non si sa mai, voglio dire, possano regalarmi qualche soddisfazione. Non ho ancora identificato qual è la cifra che voglio allocare a questo investimento, ma veramente restiamo nell'ordine dell'1% del mio capitale, lo 0,5% del capitale, ecco. Veramente una quota minima. Il crowdfunding cosa è innanzitutto? Il crowdfunding appunto è la possibilità di comprare delle quote del capitale di un'impresa diventandone socio. Quindi con il crowdfunding un'azienda decide di fare un aumento di capitale destinandolo a una molteplicità di soci, quindi a tanti soggetti, la crowd, la folla, che appunto può investire in quella società. Ecco, con il crowdfunding quindi tante persone possono diventare azionisti di società innovative, di start-up, di PMI e quindi di imprese di qualunque tipo, anche imprese immobiliari, ma non le quelle di cui ci vogliamo occupare oggi, diciamo di società di capitale. Questo mercato in Italia vale pochissimo. Ecco, questo è il primo dato che ovviamente ci deve fare riflettere. Ogni anno viene pubblicato un report sul crowdinvesting dal Politecnico di Milano, quindi da un gruppo di ricerca del Politecnico di Milano. Si chiama Osservatorio Italiano sul Crowdinvesting. Viene pubblicato ogni anno con i dati fino a giugno. L'ultimo report quindi è quello di luglio 2023 con i dati fino a giugno 2023 e diciamo nell'anno che va da giugno 2022 a giugno 2023 sono stati investiti in società di capitali tramite lo strumento del crowdfunding circa 80 milioni. Ecco, questo già ci dovrebbe far riflettere sul fatto che è veramente uno strumento molto piccolo. Se su Baladen sono stati raccolti 5 milioni, diciamo che in tutto l'anno 2022-2023 sono stati raccolti 80 milioni, capite bene che è uno strumento veramente limitato. In Italia ci sono teoricamente, al 2023 c'erano 48 piattaforme, però c'è una nuova normativa europea che appunto implica tutta una serie di requisiti per le piattaforme per operare e quindi il numero di piattaforme si sta veramente assottigliando. Quindi oggi ho contato 4-5 piattaforme che realmente sono operative. Le più famose le conosciamo, sono CrowdFanMe, che tra l'altro è quotata in borsa, andate a vedere i bilanci, non sono particolarmente rosei, Mama Crowd, Stop Start, We Are Starting. Ci sono 4-5 piattaforme abbastanza famose che comunque dominano il mercato e un po' lo condizionano. Lì appunto le campagne di crowdfunding non hanno un grande successo in Italia, mentre secondo me potrebbero essere anche uno strumento, come dimostrava Baladen, per uno strumento di marketing, uno strumento per raccogliere capitale, diciamo abbastanza economicamente, ma soprattutto quello appunto per convolgere tanti soggetti nelle proprie attività di impresa, quindi trarglielo un po' il capitale. Lo succede però che c'è una forte asimmetria informativa tra chi investe e chi invece fa impresa. Questo ovviamente fa sì che chi ovviamente vende la propria impresa, chi cede una quota del capitale della propria impresa, abbia delle informazioni sul futuro e faccia delle affermazioni sul futuro che spesso non possono essere verificate e si rivelano spesso false peraltro, perché magari sono troppo ottimistiche, quindi il fondatore spesso tende a, diciamo, sovrapromettere, a ovrepromettere, quindi a rappresentare uno scenario ottimistico che poi non si confronta con la realtà. Questo è maggiormente vero in quanto la gran parte dei soggetti che si avvicinano a questo mercato sono operatori, diciamo, start-up, quindi operatori innovativi, quindi società che non hanno ancora uno storico. Quindi c'è una forte asimmetria informativa, c'è anche la possibilità che ci sia, c'è il rischio che il fondatore poi o comunque la società con i soldi raccolti faccia tutt'altro rispetto a quelle che sono state le promesse. Un terzo aspetto critico del crowdfunding e che poi forse è quello principale è quello che non esiste un mercato secondario per le quote acquistate durante le operazioni crowdfunding, quindi io divento socio, ma quella mia quota di società è difficilmente rivendibile sul mercato. La mia possibilità di uscita tendenzialmente è limitata al disinvestimento, quindi quando la società verrà venduta oppure verrà quotata su mercati regolamentati oppure magari i founder decideranno di riacquistarsi le quote. Insomma, è abbastanza lungo il processo e non è evidentemente per tutti. Questo è sicuramente qualcosa che ostacola lo sviluppo del mercato del crowdfunding che è cresciuto tanto negli anni, in realtà, per quanto sia ancora molto piccolo, ma nel 2023-2024 ha comunque cominciato a mostrare dei segnali di stanchezza. Il report mostra tutta una serie di dati, però non conferma il fatto che ricorrere a operazioni di crowdfunding possa portare a dei grandi rendimenti, sia per le imprese che effettivamente almeno a un anno dalla raccolta non mostrano dati di margini, chiaramente di fatturato, rilevanti. Se un investitore avesse investito tutte le operazioni di crowdfunding avrebbe ovviamente avuto un 15% di ritorno che dal 2016-2017 ad oggi non è assolutamente un rendimento, penso, soddisfacente per il rischio corso, anche perché la gran parte degli investitori non può aderire a tutte le operazioni. E poi è anche vero che molti dei valori sono solo teorici, perché in alcuni casi le operazioni ancora non si sono concluse con l'exit. Sono veramente poche le operazioni che hanno visto un exit dal capitale. Infatti se andiamo a vedere i 1110 emittenti di operazioni di crowdfunding vediamo che 848 innanzitutto hanno avuto un risultato positivo e questo significa che nella gran parte dei casi i crowdfunding si concludono con successo. Ecco, quindi il 90%, più dell'80%, ma quasi il 90% dei casi i crowdfunding negli ultimi anni si concludono con successo. Questo forse fa pensare anche a una scarsa selezione, cioè fa pensare che alla fine non ci sono tantissime opportunità e quindi il capitale comunque si indirizza verso le opportunità che ci sono. E di queste 848 operazioni con successo, però, solo in 9 casi c'è stata la quotazione in borsa e in 17 casi c'è stata acquisizione o fusione. Tra questi 848 c'erano anche delle operazioni immobiliari chiusi con successo. 26 casi, diciamo, le imprese sono fallite mentre 558 sono ancora attive. In alcuni casi poi le aziende hanno fatto ricorso ad aumenti di capitali riservati oppure a nuove operazioni di crowdfunding. Ecco, mi sembra di poter dire che c'è una storia ancora di exit molto breve, molto piccola e dovremmo vedere se effettivamente dopo questa iniziale fase migliorerà un po' quello che è il profilo delle società che raccolgono capitali. Mi sembra di poter dire che la selezione delle piattaforme e la selezione delle operazioni debba essere fondamentale per aumentare il numero di queste operazioni che all'interno di un portafoglio di un investitore secondo me possono rappresentare anche una piccola quota. Poi potreste anche appassionarvi al mondo dell'investimento in crowdfunding quindi vederlo un po' come un investimento di venture capital. Esistono anche delle piattaforme un po' più evolute tipo Clubbill che quindi permettono anche a persone che high network individual quindi persone che hanno grandi patrimoni di investire effettivamente in un'ottica quasi di venture capital. Sicuramente quindi possono rappresentare una quota del vostro patrimonio una quota però direi piccola perché la scarsa liquidità di questo investimento fa sì che siano investimenti a tenere nei 5, 10 o 15 anni. Poi essendoci anche poca operazione non c'è una grande selezione del capitale quindi oggi effettivamente quasi tutte le operazioni raggiungono i propri target e questo significa anche che raggiungono valutazioni secondo me molto alte. La valutazione in un'operazione di crowdfunding non è affidata a un uditore esterno non c'è un soggetto che mette una X e dice che quel valore è equo nella gran parte dei casi nei casi che ho visto è la stessa piattaforma che si fa una propria valutazione si dà una valutazione di quello che è il proprio valore e quindi assegna un valore al mercato. Questo porta tendenzialmente a delle valutazioni nel range alto delle forchette che diciamo sono ipotizzabili. Nel caso di Mirificio Valaden il prezzo è stato di 12 volte le binda sicuramente è un prezzo che è in linea con quelli che sono i peers e i competitor però stiamo parlando ovviamente di società quotate di società che hanno tutt'altra anche trasparenza nella comunicazione e facilità di lettura dei dati della propria attività e poi qui diranno una maturità e una stabilità differente ovviamente a quella di una start-up che secondo me a mio avviso vorrebbe quotare un po' meno rispetto ad un'azienda stolida e stabile tuttavia qui ovviamente c'è un concetto completamente diverso da quello insomma di una Heineken piuttosto che da birrifici storici. Penso di averti raccontato un po' perché ho investito in Birrificio Valaden perché penso che il crowdfunding possa essere un investimento ma più che un investimento un divertimento questo aggiunge quel pizzico in più di fantasia e di emozione ecco all'attività di investimento al mio portafoglio e quindi mi faceva piacere parlartene e volevo capire insomma se anche tu investissi in questa tipologia di asset cosa ne pensassi insomma beviamoci una birretta quanto prima a presto e grazie Giovanni